Alle patriote fino anche a degli ex ministri. Ma chi sa lo controllo? Ogni minimo oppositore. Da un momento all'altro una persona può essere quindi incarcerata anche semplicemente con l'accusa di aver pubblicato un post su Facebook. Ad esempio il 33 marzo giorno del processo di Sonco contro il ministro del turismo Man Beignan, l'avvocato di Sonco Juan Branco è stato rimpatriato a Parigi per il suo post su Facebook qualificando il presidente Machisal di Tirano, accusando quindi di Tirano il presidente Machisal, impedendolo di assistere il suo cliente in tribunale. Il governo spinge quindi alla votazione dei progetti di legge discriminatori. Uno di questi è il punto chiave della sua lotta contro l'opposizione. Una legge che impedirebbe di candidarsi per le elezioni presidenziali se Usman se è condannato da un tribunale, anche per reati minori. Dunque Usman Sonco ha fatto sì che giovani e adulti che siano resi conto di quanto il territorio senegalese sia venduto senza alcun profitto ai poteri esteri occidentali e asiatici, a scapito dell'economia ovviamente locale, quanto di fondi contro il Covid. Quanto di fondi contro il Covid per esempio, sono stati sperperati dai comuni e di turisti che siano in Torino, per il invierno alla vita di 85 anni. Da dieci anni questi patrii non hanno fatto altro che vendre le tasche, il dettaglio di più luogo. Ogni appartenente al suo governo si è arricchito appropriandosi dei soldi dei contribuenti. Il loro unico pensiero è quello quindi dell'arricchimento personale e non dello sviluppo di un paese come il Senegal pieno di risorse primarie di suo. Il piano Senegal Emergenza per il quale la maggior parte dei senegalesi che ha votato a suo tempo Machisal si è rivelato una vera burla. Il piano non è mai stato realizzato ovviamente. Gli interventi che Machisal e il suo governo hanno portato avanti si sono rivelati solo delle cartine di Ternosole. I senegalesi, oro come oro, hanno bisogno di un piano di sviluppo economico. E' un vero peccato avere risorse umane così elevate, cioè giovani, soprattutto la maggior parte diplomati e laureati, e avere così tante risorse primarie come il terreno fertile, il petrolio, l'olio e non avere alcuna fonte di economia nazionale duratura e solida sulla quale costruire il futuro dei nostri giovani. La pacificazione è quella che ogni senegalese reclama, cioè la pace. Ma sappiamo tutti che il potere al governo può riportare la pace solo riportando al proprio posto tutti i più semplici diritti dichiarando ufficialmente la non partecipazione alle prossime elezioni e arrestando la persecuzione degli oppositori. Solo così il senegal potrà tornare nella sua storica situazione di pace a cui siamo abituati normalmente, per la quale è conosciuto nel mondo quindi. Sokousman Sonco quindi denuncia nel 2017 la corruzione endemica relativa al settore dell'estrazione di carburanti, di fossili e gas in Senegal attraverso un saggio petrolio e gas in Senegal, cronaca di esplorazione, che prevede la stampa in seguito alla sua carriera come ispettore delle imposte al tribù fondamentale alla nascita del primo sindacato autonomo dell'amministrazione fiscale senegalese, la SED, sindacato autonomo degli agenti del fisco. Il presidente Usman Sonco decise di fondare la SED perché inizia a vedere delle anomalie nella gestione del fisco, del domenio pubblico e dei budget stanziati. E pertanto il 29 agosto del 2016 viene radicato al suo posto in amministrazione, dal suo posto. Scrive il saggio di denuncia quindi, e già da qui il suo pensiero vira verso un vero e proprio impegno politico quindi. Di lì a poco diventerà presidente del partito PASTEF, Le Patriotes, fondato nel 2014 da giovani dirigenti della pubblica amministrazione senegalese, del settore privato e delle libere professioniste, dell'insegnamento e dell'imprenditore. La maggior parte di loro non ha mai fatto politica, ma sono spinti dallo spirito patriotico e dalla convinzione della gravità della situazione senegalese al momento. E' quindi un avversario chiaramente molto forte che ha preso su molte persone per le sue idee. Così Sonko ha presentato un progetto chiaro per lo svolto economico, locale, ed è questo ciò di cui abbiamo bisogno di seguire. Il progetto di PASTEF in vista delle elezioni verranno esposti nel nemme culturale. Allora, comunque per fare breve ne sono esempio la manifestazione in marzo 2021 contro quella che è stato un vero e proprio complotto. persone di Sonko, ma soprattutto che si sono trasformate in una dimostrazione di forza del governo senegalese contro i propri oppositori, portando quindi a morte migliaia di ferite. Ed è questo il nostro problema, anche se siamo qua a denunciare. Ringraziamo la nostra sorella di un secco per questo bello referendum che ha fatto. Ti ha spiegato un po' più, ti ha spiegato, diciamo, la situazione che stiamo vivendo adesso in Senegal. e la ringraziamo per il suo intervento. Allora, oggi abbiamo un ospite che fa parte dei vertici del nostro partito, che è arrivato direttamente dal Senegal per il lavoro del partito e tante varie cose che deve fare qui. e quindi ha prolungato sul seggiorno per poter partecipare oggi a questa manifestazione che organizziamo. E parlo della persona, del nostro patriota, amico, fratello, al-Dumosou. Un applauso, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.